Questo poco qui l'ho trovato, questo spazio qui. Io avevo la macchina parcheggiata in questo orizzontale, l'ho trovato più o meno qui perché io avevo la macchina qui e l'ho visto qui. Non ci ha pensato un istante Francesco Caffiero, 53 anni originario della città metropolitana di Napoli, ma residente a Fano dal 2000 insieme alla famiglia. Ieri pomeriggio, intorno alle 19, dopo alcune compa, è ritornato nel parcheggio di Via 24 Maggio, nelle vicinanze della Rocca Malatistiana e qui a terra ha trovato un portafogli. All'interno c'erano 140 euro in contanti, il libretto degli assegni e carte di credito. Francesco lo ha raccolto e si è subito adoperato per cercarne il proprietario attraverso i documenti contenuti nel borsello. Ho riscontrato, non so se posso dire, è un'azienda agraria vinicola, una signora Fiorini, però non mi rispondeva nessuno al telefono e quindi sono andato alla polizia, dove questa signora era già stata, l'hanno richiamata ed è venuto personalmente a ritirare il borsello. E proprio lì quindi vi siete incontrati? Ci siamo incontrati lì, sì. E l'ha ringraziata? Mi ha ringraziata, mi voleva anche risarcire con dei soldi, però io non ho accettato, però siccome lei ha un'azienda vinicola mi ha detto almeno le posso offrire del vino e ha detto va bene, così va bene, però non soldi da ricombenza. Tra l'altro questa signora doveva partire? Sì, a quanto detto ieri sera gli avevo salvato la vita perché era in partenza e non poteva partire più, infatti girava per tutta Fano per trovare il suo borsello. Non credo di aver fatto nulla di eccezionale, poi ha aggiunto Francesco che già altre volte ci ha raccontato, ha ritrovato e consegnato tre cellulari e un portafogli. Volevo precisare che sono di Toro L'Annunziata, provincia di Napoli, perché veniamo un po' sempre etichettati dalla provenienza ma non dalla persona che siamo qui. E lei ha avuto già altre volte questa sensazione un po' di discriminazione? Sì, infatti è difficile far amicizie proprio con i fanesi, ho tanti amici perché mio figlio giocante al calcio, crescendo i figli qua, ho avuto modo di conoscere famiglie varie sia con la scuola sia col calcio. Sì, amici se no, però sento questa sensazione un po' di discriminazione verso la provenienza perché se non si conosce finì in fondo una persona non puoi giudicare. Anche mio padre più volte gli è capitato a Napoli, roba rara, come si dice, trovare un portafoglio pieno di soldi e riconsegnarlo fino a casa. Quindi vengo già da una famiglia di onesti, quindi non mi è stato per nulla difficile fare questo gesto.